Si servivano di vecchie auto per spaccare le vetrine o le saracinesche dei negozi da razziare e in questa maniera che 5 giovani pare abbiano effettuato più di 30 rapine tra Vittoria e Ragusa. La squadra mobile di Ragusa e il commissariato di Vittoria hanno contestato infatti ai 5 32 reati tra spaccate, furti di auto e rapine. Pare che la banda una notte sia riuscita a rompere 8 vetrine solo per accaparrarsi pochi spiccioli ma procurando ingenti danni ai proprietari degli esercizi commerciali. Agli atti risulta che la base operativa fosse a Vittoria e che alcuni autori dei furti si trovassero ai domiciliari e uscissero per compiere gli reati. A maggio furono arrestate altre 8 persone, oggi pare che si chiude il cerchio con l'arresto di altri 5. L'organizzazione della banda era perfetta, ognuno aveva un ruolo specifico, c'era chi rubava le auto, chi faceva sopralluoghi e chi guidava le macchine da lanciare contro le vetrine o le saracinesche dei negozi. Grazie al Blizz sono state sventate decine di rapine già programmate. I destinatari del provvedimento cautelare in carcere sono Gabriele Meli, 20 anni, già detenuto, Salvatore Bulbo di 24, Paolo Scafidi di 36 ai domiciliari per un altro reato e Mahmoud Mussat, 38 anni. Il GIP ha disposto inoltre i domiciliari per il ventenne Kevin Lomonaco. Ancora una volta fondamentali sono state le telecamere di videosorveglianza sia private che pubbliche, perché grazie alle immagini gli inquirenti hanno raccolto indizi fondamentali che hanno permesso di attivare intercettazioni sugli indagati. Grazie a tutti.